Musica Hello a tutti sono Fer ed eccoci qui con Overwatch gioco che volevo giocare da tantissimo tempo E finalmente ora è arrivata la beta purtroppo c'è da stamattina e ho avuto solo ora e il tempo di giocarci Però iniziamo subito non ho fatto l'addestramento quindi si va a come possiamo dire ad intuito si va ad intuito Ah e vedi questo dice guarda che non hai fatto il tutorial vabbè dai facciamolo sto tutorial Allora zona d'addestramento Ah oh ci siete tutti ciao ciao a tutti state iniziando ad arrivare Prima ero solo c'ero solo io ciao a tutti ciao E quindi iniziamo un po' con la zona d'addestramento va così ci togliamo zona d'addestramento e poi iniziamo Samuele Montanari già pubblicità Cosa già pubblicità Oh benvenuto Oh che figata Ah ok posso anche cambiare roe Uh Ah ok Ah Sera si in futuro dirò l'ora prima di iniziare Adesso siamo ancora in fase di live improvvisa però piano piano farò gli orari per le live Ciao a tutti Ciao a tutti Allora le abilità di Anzo sono Q, E, maiuscolo e barra spacciatrice Ok 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 con la freccia cambio la freccia e diventa la freccia Roba del drago ok Con cetrielle mi abbasso Posso saltare Posso lanciare frecce Ai robottoni cattivi Ah Ok con E che faceva Ah con E fa la freccia rimbalzina mi sa E infatti si con E fa la freccia rimbalzina Ciao a tutti Ricordo che questa è la prima volta che gioco ad Overwatch eh È la mia primissima volta Ok proviamo a cambiare roe Ah ok Devo essere all'area di partenza per cambiare roe Con questo posso fare le scalina Ah Perché non posso fare l'arrampicata Ah C'era scritto che si faceva l'arrampicata Aspetta però mi sa che un poco di arrampicata la fa No ok vai a Vai a quel paese È una bugia Ok con Q facciamo l'attacco figo Perché non mi fa fare l'attacco figo Vabbè Allora Direi che per la zona di addestramento stiamo bene Ah ciao a tutti E quindi Profilo Abbandona la partita Sì E andiamo a giocare effettivamente contro altri giocatori Dai che le ho fatte le cose Sono bravo Andiamo Adesso andiamo ad essere disintegrati Contro tutti quanti Yeah Devi essere in un'area di partenza Vabbè Siamo a Lumbani Lumbani E vai Rec mi chiede se è tipo Team Fortress Sì Bene o male Sì Allora potremmo scegliere Genji Qua McFree Parra Robi cattivi Allora Ho Leggiucchiato Ieri Ieri Un po' le abilità dei personaggi E vorrei provare ad usare Lei Diva Perché c'è il robottone figo Uh Yeah Vediamo i dettagli un attimo degli eroi Allora con Q Autodistruzione Poi Con Q Richiama il Mac Maiuscolo Retrorazzi E Matrice difensiva Cannoni di fusione Ok 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 Allora Quindi Maiuscolo E E uno Ok Vabbè uno Tutti i settori operativi Eh Grande Ma questo si ricarica da solo Devo ricaricare io Uh Posso volare Ah 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 Dai che figata Volare Uh Posso ancora cambiare eroe Però no Meglio di no L'attacco È iniziato Che poi non capisco Perché a sinistra e a destra Ci sono le barre Eh Hai trovato il nemico Dov'è Ti do una mano Vai andiamo Amico difensore Eh perché Laggeggia un po' Perché Andiamo Amico difensore Ammazza Dov'è Ammazza 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 Ah Come faccio ad ammazzarlo No Ah Ok mi sa che Oh Ah Ok mi hanno ammazzato Uh Ah Che bello Ciao a tutti Ciao a tutti I grandi I grandi siete voi Non sono io Allora posso cambiare eroe Sì Proviamo Trazer va Perché Trazer Vi sa un po' Come lo scout Di Trimforters Quindi Dovrei andarci meglio Allora Bomba con Q Però è un ultra Maiuscolo Flashback con E Ok Perfetto Tutto a posto Ok C'è già il fatto Che scatta È una cosa fantastica C'è sti scattini Così mi piacciono Tantissimo Allora Oh Ho ammazzato qualcuno No Oh Ho eliminato Alex Nova Yei Muori tizio Muori Muori Uh Flashback Ah Scappiamo Ho una sensazione Di déjà vu Ah Ah cacchiarola Ci sta il tizio Ok Ah Medic Come si fa qua A urlare medic Wow Ok lì c'è il tizio forte Ah Non c'abbiamo Uh Eccoli medic kit Perfetto Si torna a combattere Perché l'aggo Come la miseria Oddio C'è un drago là Ah Ah l'aggo Muori Muori Ah Ma perché l'aggo Ah Muori Ma non muore Sto tizio Grande Ho eliminato Ma sto laggando Perché tipo La laggo O O mi sa che il computer Non ce la Non lo regge benissimo I dati I settaggi alti O forse È OTS Che mi fa laggare Che con fraps Tipo non laggo Sicuro Ah Fuck Muori tizio Muori Forse posso buttare la bomba Uh Ah flashback Ah Sono inammazzabile Alex Nova Non puoi ammazzarmi Ah scappa Ah Io sono Tracer Non mi puoi ammazzare Sono Tienimi V2C per i messaggi rapidi Ah ok Grazie 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 Rex Bomba in buco Ah c'è un cattivone Dov'è 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 Conquista in corso Stiamo facendo la conquista Ah ma è a conquista Qua Ok Oh marchback Ma questo è cattivo Pensavo fosse uno dei nostri Perché ce n'è uno uguale a noi Ah ah Ho eliminato Oh c'è Oh Ok Wow Serie da 7 Grande Rec mi chiede Se è pesante come gioco Penso un po' di sì Perché comunque Della blizzard nuovo Abbastanza Potrebbe essere un po' pesantino Ok proviamo un altro eroe Con Tracer Sono un grande Proviamo Che cazzo è stato Ok Winston Winston è Un tank Allora Qui divento super forte Maiusco Salto E protettore Ok Ok Andiamo Sono Winston Il distruttore Salto Ah 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 Ho pensato di fare un salto Grande ammazza Ok Questo ci proteggerà un corno Ah Ok Il tizio mi ha eliminato Vabbè Ok Il tizio mi stava sparando così Ah E poi mi hanno eliminato Vabbè Riproviamoci con Winston A che setting Sto giocando Ultra Quindi No Mi sembra Ultra Un massimo Mi sa il secondo migliore Non l'ho messo al migliore Perché sapevo che con OBS Eccetera E' pesante Da registrare Eccetera Quindi Non ho messo il settaggio Massimo Però E poi comunque Sul Quando La registrazione di OTS Per qualche strano motivo Al massimo Non me la fa Quindi Ah Che cacchio è successo Ah Ci hanno sconfitto Sti figli di buona donna Oh Ok L'azione migliore Come si GG Yey GG GG lo so scrivere Wow Grande Ha bloccato tutti quanti Ah Ma qui Quando c'ero anch'io Che sono morto Come lo scemo Infatti Bersetail Che viene distrutto Esatto Esatto Yey Vai Allora Io Non ci sono Nemmeno minimamente Tra i tizi Ah no Aspè Io eccomi Ci sono qua Ah Ah vabbè Mi devo vendicare In un'altra Per tipo Ci proviamo Ci proviamo Yey Tyrex mi dice Di provare il robot Che è un bug Che cammina Allora Ciao a tutti Dark Bene o male L'unica cosa Preoccupante Del mio pc È la scheda È il processore Perché è solo Un i5 Però per tutto il resto È roba alta Quindi dovrebbe girare Senza problemi Però Il problema Che non riesce A gestire bene Le cose È il fatto Che il processore È un i5 Mi sembra Non ti avevo visto Comunque sto giocando Non riesco a leggere Per bene Ma non Mi hai anche scritto Ma non preoccuparti Ti voglio bene Continuerai Darksiders 2 Probabilmente no Perché comunque è passato Tantissimo tempo Però magari se in futuro Lo riprendo Farò prima il primo E poi il secondo Perché sono entrambi Fantastici Giocati entrambi Fantastici Sì Dark Meteor Il problema È proprio Il processore Cioè nel mio computer È sicuro che il processore Nel tuo non saprei Però sul mio Il processore Disintraga Gran parte della cosa Allora Con Q si fa la spirale Della morte Con E Si diventa Si fa il teletrasporto Con maiuscolo Si fa lo scudo Poi come abilità passiva Che c'ho? Ok Raccogliere i globi Da anima Rigenerare la salute Ok Shock mi chiede Che connessione ho ora Per ora Dato che I cablaggi Del mio Palazzone Cioè di Di casa mia Non vanno bene Sono Antiquati Dell'età della pietra Una casa Che Non lo so Se c'ha cent'anni Però è vecchia Non penso cent'anni Che diamine Comunque Sì ti sto parlando Comunque È molto molto vecchia E quindi I cablaggi dentro Non sono perfetti Ho la connessione A 50 mega Tra A momenti Tra virgolette Quando riesco a cambiare Il filo Passo a quella A 100 mega E quindi Per ora C'ho 50 di Upload Bene o male E 10 Cioè no Scusori 50 di download E 10 di Upload Però magari Con quell'accento Riesco a salire Ancora di più Magari anche a 20 di Upload E Grande Stream a volontà Ehm Dove cacchio sono Stiamo conquistando Devo difendere L'obiettivo Dove sono I cattivoni Ammazzatelo Ok Noi da qua Non possiamo andarci Magari adesso Mi faccio Forma spettrale E vado ad ammazzare Quella tizia Muori Grande Perfetto Forma spettrale Ah 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 Non puoi toccarmi Ah 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 No muori 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 L'ho ammazzato No Aaax Manazione Mi ha ammazzato Ah Allora Warkmolo Mi dice Fai TF2 Tanto siamo in tema Eh ma TF2 Eh TF2 L'ho giocato sempre Overwatch È nuovo Roba nuova Ehm Non lo aspettavo Da tanto Allora, Zig mi dice che sono stato il suo primo youtuber Grazie Spero di essere stato una prima bella esperienza Sì Allora Andiamo avanti Cecchino, dove? Dov'è? C'è là il cecchino Forma spettrale Non puoi toccarmi Ok, grande Bravo, Nathor Hai ucciso il cattivone Oh, c'è un tizio cattivo là sopra Aha, eliminato Wow Muori, muori No, non ce la faccio, aspetta, amico Devo andarmi a ricaricare Ah, voglio fare l'ultra con Ripper Che sfonda tutti i sederi Sono 72% La ultra Muori, ossone Muori, ossone Yeah Ho eliminato Oh, cacchio Questo non lo elimino Via Eh, non sono più giovane come una volta Penso però che questo l'abbia detto il nemico Perché il nemico se non erro è vecchietto Ah, dannazione Mi hanno ammazzato Allora Ehm Colon Mi chiede quanto costa Se non erro C'è la versione da 40 O da 30 Come dice Stera E poi c'è la versione da 60 Poi c'è la versione anche da boh Però comunque Dipende dalla versione che prendi Non so la differenza tra le versioni Oltre ovviamente a quella speciale Che ci sono le robe figlie vicino Però c'è una versione da 30 E una da 60 Mi sembra che si chiama Si chiami Roba Non lo so come si chiama Ehm Però c'è l'edizione speciale Che sarebbe quella anche diciamo fisica Che l'edizione fisica C'è solo di Disponibile Solo la versione speciale Ok Andiamo qua E facciamo il sedere a tutti Perché non ho fatto il sedere a tutti Sono morto io Questa cosa mi Ah Perché la tizia aveva lasciato il coso a distruggere Sono stato un idiota Però è morta pure lei Allora proviamo Soldato 76 Va lo stavamo usando prima Proviamo 70 Soldato Sembra più Un FPS normale Tipo tutti i personaggi Ci hanno quella cosa figa Ah si esatto Ok Kevin No Kevin Knox Origins Edition Esatto Ehm Dark Matter mi dice di fare una Cioè se me la sento di fare Una Mini recensione Opinione di questi secondi Dato che ho giocato Un pochettino laggando Un pochettino comunque Così Però Diciamo che mi sta piacendo Come prima impressione Mi sta piacendo molto Come gioco Ovviamente Questo è il primo giorno Che ci sto giocando Ehm E tutto il resto Non ho neanche provato Tutti i tizi Dove sta il cattivone C'è qua dietro Mori 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 Oh cacchio Ci sono i cattivoni Via Mori 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 Ah Via Aspetta Questo che fa Aspetta Allora Questo c'ha la cula Visale Lo scatto Rigeneratore Robotico Ok E poi Razzi elic Spara razzi esplosivi Ok Wow Grande Abbiamo ammazzato Il tizio Ah C'è una tizia No Mori Ah la tizia Ha lanciato La bomba Ah che poi Quanto sto notando C'è anche Diciamo La roba Che si distrugge Intorno Oh tizia Vittoria Woohoo GG Scusate Per l'urlo Avevo Vinto Dopo Mi avete Consigliato Di usare Le tracer Già l'ho usata Lo scout Allora Choc mi dice Che l'audio Di gioco È estremamente Basso Sorry Rimediamo Subito Sve Che dici Così va bene Ovviamente Dovrò aspettare Un po' Per ricevere L'input Se va bene O meno Però vediamo Se va bene Eh Choc tra poco Fammi sapere Se va bene Anche tutti gli altri Ovviamente Fatemi sapere Se l'audio Adesso va bene L'ho alzato Un po' Oh mio dio Oh Un forziere Cos'è sto forziere Serie di uccisioni Ok Sono Sono troppo bravo Troppo bravo Eh A morire Allora Ok Sta ricercando Un'altra partita Uh Hollywood Grande Mi dicono Di Continuire La grafica Per non farlo laggare Effettivamente Però non so Se è un problema Di robe Connessioni O di computer Però adesso Proviamo ad abbassare Un po' La grafica Allora Opzioni Grafica Proviamo Media Eh no Devo Reavviare Vabbè Lascia stare Lo facciamo La prossima volta Luke Piace Mi chiede Se secondo me Il gioco vale Non te lo posso Non ti posso dire Adesso se vale Perché L'ho appena provato Però Mi fido Della blizzard E Secondo me vale Però non so Non ti posso dire Certamente Vale Tutti e 30 Gli euro 60 ecc Però Il gioco Sembra davvero Davvero carino C'è Mi sta piacendo Molto Allora Usiamo Anzo Mi sta piacendo Molto Yeah Portiamo onore Ok Stanco di aspettare Comunque Te l'ho detto Magari In futuro Potrò darti La mia opinione Ma questa è la prima volta Che gioco Sembra un professore Quando parlo Yeah Che cosa carina Allora Freccia infida Freccia sonica Ok Allora quindi È Quella che rimbalza E maiuscolo Quello Che mi fa vedere Dove sono i cattivi Cercate di stare Cercate di stare Al passo E sono tipo L'ultimo Ok Cerchiamo di Beccarli Però con Ste freccette Qua E quando Li becco Ok Cerchiamo di salire Qua sopra Vediamo se si arrampica Perché Non si arrampica Porca Uh Si è arrivato Arrampicato Grande Eh vabbè Vabbè Eliminato il tizio Eliminiamo Ah cacchiarola Che ti muovi a fare Nero Lascia che ti Che ti uccida Il sedere Ammazza Ok Avevo fatto La freccia speciale Freccia speciale Grande Un compagno Anzo Ah dobbiamo Scortare la macchina Qua Che figata Ah che figata Siete Siete Fantastici Comunque In chat Ah Muori Ah Quello mi sa Che mi ricorda Un tizio di dota Quel tizio Grosso Grosso Oh mi stanno curando Grazie Chi è Dov'è Dov'è il cattivo Ah C'è il cattivo qua Rimbalza Dappertutto Ok Lo abbiamo ammazzato Non l'ho ammazzato io Non fa niente Basta che è morto Il tizio Ah una treser nemica Muori Vai rimbalza Ah Scatta Non scatta Ok Freccia del drago Ok mi sa che la freccia del drago L'ho lanciata un po' a caso Ma vabbè Dov'è il cattivo We Dov'è il cattivo Eccono qua Dove sono Ok ho messo la freccia Dov'è il cattivo Muori 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 Ok Muori Ah Dannazione Ok Un secondo L'hai vinto Torno subito Torno subito Un piccolo Scorto in carico Oh mi stanno curando Grazie Chi è? Qual è? C'è il cattivo Ah C'è il cattivo qua Bisogna far muovere il carico Ok Rieccoci qua Allora No cambiamo Anzo è bello di tutto però Non riesco a fare bene Proviamo il ninja Ok Ok Con shift Si fa lo scatto Ammassassino Con E La deviazione E con Wow 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 Dov'è? Ah dov'è Tracer? Ah cacchiarola Stavo cercando di prenderla Ammazza Ma Ma mi sa che non l'ammazzerai mai Tracer così Oh L'ho ammazzata invece Ah ah Oh Mi sa che ho eliminato anche l'altra Non lo so La lag non me l'ha fatto capire La lag non me l'ha fatto capire Ok Oh Un altro anzo nemico L'ha ammazzato? Grande Ah ah Ok vieni amica Andiamo Oh Dov'è Tracer? Ammazza Grande Che poi se non erro col tasto Destro No Faccio pure sta cosa così Vai Sang Grande Grande Sto ammazzando a tutti quanti Muori Muori Grande Una pioggia di cosa Che ti ho ammazzato Dove stanno? Ah Attenzione alle spalle Grazie per avermelo detto Ma non ti ho ascoltato proprio Ok andiamo Ammazzate Ammazzate tutto Grande Sto ammazzando tutti con Anzo Sto ammazzando tutti quanti con Anzo Allora ci vai Ma non è Anzo questo Questo è Genji Ho chiamato Anzo per tipo mezz'ora Sorry Dove è la tizia? Ci sono troppe Tracer però Eh L'ho ammazzata Vittoria E vai Siamo dei grandi E beh Stere come lo scout E ha E ha Usato a pariccio Vabbè Grande Lucio Lift test Grande Ci hai curato a tutti quanti Perché questo se non erro è un supporter Grande Comunque Il live Va In pausa Per dieci minuti Torno tra dieci minuti Ah si rec La live poi va anche su youtube Ok Yey Sono tornato Quindi riprendiamo subito Giochiamo Allora Vediamo un po' Ok Si Già ho fatto Ho anche ucciso un sacco di persone Non mi servono i tutorial adesso Ok Yey Quindi Rieccoci qua Tutti quanti Il mio orologio porta i 30 E me ne vado E torno tra un minuto Ah Scusa Salvo Ti ho spaventato Allora Cosa ho mangiato E cosa ho bevuto Ma chi te l'ha detto Che sono andato a mangiare Warrakmolo Eh si Sono andato a mangiare E ho mangiato Pollo e insalata Quindi E ho bevuto acqua Non la facciamo vedere Perché poi Copyright dell'acqua Di roba qua Però è acqua Acqua Ciao a tutti Si ok Stai era già risposto Stavo per rispondere io A fine live saluterò tutti Non vi preoccupate Allora 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 Proviamo Il cecchino Ogni colpo Un centro Ok Non stavo masticando Clux Allora Siamo pronti Vai Eh ma io non ho visto Allora Visore termico Con Q Maiuscolo E rampino E la mina E poi si spara Poi ovviamente Si fa la roba qua Ok Vediamo se posso salire Tipo là sopra Rampino Spider-Man Spider-Man Anche se sono una donna Ma perché scivolo Sui tetti Se non ci posso stare Che caccio Di cecchino sono L'obiettivo è mio Dove sono I cattivoni Dove sono i cattivi Bang Dove sono i cattivi Dove sono i cattivi Sembrato di vedere Un cattivo Dove sono i cattivi Ok mi sa che non ci conviene Fare il Amo essere un cecchino Ah Tannato Enzo Amo fare il cecchino Di solito Mi piace Però Guarda mi è one shottato Figlio di buona donna Però non sono Bellissimi Dobbiamo fermarti Eeeh Pottartiglio Eh ma non posso Ah ok adesso Ma scivolo Che stupidaggine Ma vabbè Ok Dove sono i cattivi Posso spararli Attraverso il muro No Ma scivolo Che stupidaggine Ma vabbè Perché non posso sparare Attraverso il muro C'è la veranda Ammazzanzo Ammazzanzo Grande Ammazziamo il Maiale Aspè Io se non erro Con Q Poi potevo anche Sparare attraverso Gli edifici O no No Posso solo vederli Wow Ok Il drago ci ha ammazzato Yeee Il ritorno del Battartiglio Ora la mia attenzione Dopo aver sentito Battartiglio Tutti amano Batman Quindi Eeeh E' una cavolata Perché io dovrei Essere in grado Di salire Lassopra Cicchinare tutti Dallassopra Ma non me lo fa fare E' stupido E' stupido Muori No Devevo ammazzare Liller No Non sto ammazzando Nessuno Liller No E' morire Grande Ah Lasciami stare Oh Dannazione Ok Proviamo un personaggio Più fisico Salve a tutti Allora Chi proviamo 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 Reinhardt Qua Ok Allora Miuscolo Carica E Dardo di fuoco Barriera Tieni premuto Ok Ok Andiamo a fare il sedere a tutti Devo difendere il punto Quindi dobbiamo fare il sedere a tutti quanti Ok Ok Con la tizia Adesso gli facciamo il sedere Azzata Ah ma Vabbè Vediamo chi la vince Ok L'hai vinta tu Ah Che bello Vabbè Allora Però Non lo sapevo Sto fatto che la cosa andava in ritardo Altrimenti la facciamo meglio Allora Con questo Ok Tutto quanto va Con un leggero Secondo di ritardo No 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 Non ci facciamo sconfiggere Attenzione Ah ma fa danno Continuo sto coso Ok Mi sa che abbiamo perso E vabbè Ehi Ciao a tutti Ciao a tutti Alla fine poi facciamo saluti Per bene Ah Dannazione Perso Ah Sono arrabbiato Graorg Dopo voglio provare il robot che cammina Il bug che cammina Ah Sei secondi Quattro Sì Due Uno Via Yeah Uh Statue volanti Grande Ok Ok E poi sti tizi che mi parlano in sottofondo Ah Dov'è I sistemi sono operativi Perfetto Ah c'è il cattivo là Arrivo Ah Dannazione Dov'è Bang Ha 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 E lì Oh gribbio C'è il buco Mamma mia Moris Widowmaker Ah Yeah Sto conquistando Perché sono figo Sono figo E Conquisto Yeah Sono irarrestabile Cioriello mi chiede Il prossimo live di cosa sarà Non ne ho la più pallida idea Non lo so Non ne ho la più pallida idea Ah Non mi puoi fare niente C'ho il mio scudo figo Qualcuno mi aiuti Perché poi questi mi ammazzano Che poi c'è pure la tizia con l'healer E vado Dove vai Vieni qua healer Che ti faccio un sedere quadrato Oh 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 Vieni qua Vieni qua Ah dai 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 Non puoi spararmi Aha Via 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 Come devo difendere Ah Ammazziamo qualcuno E dai Oh Mi hanno ammazzato Mi dovrei avvicinare con lo scudo E poi attaccare Si che si deve fare così Però C'era l'healer C'erano i tizi Allora Premi Q per fare Che cosa Cos'era che faceva Q Schianto sismico Ok Ok batto tutti i nemici Davanti a me Perfetto Adesso vado la vi Faccio un sedere così Allora Ok E' il meglio che so fare E' un po' Wow 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 Pioggia di giustizia Ok mi hanno Non mi ci fanno avvicinare Ah buonasera a tutti Buonasera Eh si Mi hanno ammazzato Ok lo so Ancora Facciamoci ammazzare da volo E vai Daniele mi dice Usa il robotone Ok si Dopo lo uso Sta giustizia della miseria Però eh Ok scudo E Bang Non ho ammazzato niente Non ho ammazzato niente Ma cos'è Ma cos'è Cos'è Ma vai a quel paese Che non serve a niente Messaggi random Chi è che manda messaggi A quest'ora di notte Novità Ah è vero Giusto Dopo 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 si vede Quella roba là Dei messaggini Allora Robottone va Allora Questo se non erro Si trasforma pure In un cacchio di carrammato Eh beh Abbiamo perso Vabbè Lascia stare Salve a tutti Buonasera Buonasera a tutti Gunter God Mi chiede Fino a quando durerà la live Probabilmente Verso le 10 Finirà Quindi verso le 10 Fino alle 10 Eh lo so che se Perché devo andare Purtroppo c'è una roba da fare E devo andare Mi dispiace Però Le prossime live Cerchiamo di organizzarle per bene Appena riesco ad organizzarmi Uh ho fatto quarto Elogia Mi elogio Perché sono bravissimo Comunque Le prossime live Le facciamo durare di più E E E scegliamo esattamente Il giorno in cui farle Lo annuncio anche un po' Prima Ehm Warackmolo Mi vuoi proprio vedere Usare Tracer E va bene Usiamo di nuovo Tracer Però prima il robotone Prima il robotone E poi riusiamo Tracer Comunque Warackmolo La live la carico Anche su youtube Quindi puoi vedere Anche da lì Ehi Allora Prima il robotone Ok Seleziona Ok Devo difendere Hollywood Formazione squadra Ok Già ci sono due Due robotoni E un soldato Ah Che figata Che qui a destra Ti dice consigli Cioè Non c'è nessun Cecchino Nessun geniere Ok Nessun tank E nessun eroe Di supporto Che figata Mi piace un sacco Sta cosa Che dice Stei cose qua Ci sono tre Robotoni E poi c'è un green screen Che figata C'è il green screen Ehm Gatorod mi dice Se farò qualche partita Con gli iscritti Mi frude il naso Anche se era un motivo Sì Non vi preoccupate Appena Si sa perfettamente Diciamo le live Quando si faranno Faremo anche dei raduni In live Le live all'inizio Si dovranno fare Solo per questo Però poi Ci siamo espansi Però comunque si Le faremo insieme Allora Daniele mi chiede Se in futuro Se in futuro le live Avranno un orario Prestabilito Sì Avranno un orario Prestabilito In futuro E in più Ci saranno Delle live bonus Allora Tipo che ne so E' un esempio Non è l'orario Della live E' un esempio Questo Ehm Facciamo Che ne so Le live da lunedì Martedì Mercoledì Così E poi in più Bonus Quando posso Le faccio anche altri giorni Eccetera Però tipo Gli orari fissi Cerco di rispettarli sempre Poi se c'è qualcosa Che me lo impedisce Vi avviso prima Però Gli orari Fissi Cerco di rispettarli sempre E in più Magari faccio anche Degli orari bonus Allora Poi io sto qua Allora Con maiuscolo Si riconfigura Connessi Autoripara Oh Mori 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 Perché non mi fa lo scudo Mori 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 Eh vabbè Ma non c'è nessuno Sono solo io Ma cos'è C'è solo C'ero solo io Eh dobbiamo difendere l'obiettivo Però Diamoci una mossa eh Dobbiamo difendere l'obiettivo E poi stanno fermi là Dobbiamo fermare il carico Ok io adesso mi metto qua E vi faccio un sedere grosso Come la miseria Perché non si riconfigura Riconfigurati porca miseria Perché non si riconfigura Ma perché non si è riconfigurato Scusa ho premuto maiuscolo Mi frude il naso Allora Allora F1 Maiuscolo Perché non si riconfigurava Mannaggia la miseria Ehi ci sono io dietro Potremmo andare insieme Così mi curi Muori Ah Trazer è un casino Da ammazzare con questa Però eh Infatti dovrei cercare Di ammazzare qualcun altro Invece di Trazer Tipo il nano là Wanzo Ok E vabbè Forse questo robottone Non è adatto Al momento Perché non c'è nessuno Che mi dà una cacchio di mano Ho il ciclo stasera Evviva Ehm Vegeta mi chiede Se farò un gioco di Dragon Ball Non ne ho idea Non ne ho idea Si vedrà in futuro Non ho la più palida idea Se farò altri giochi Stasera no Stasera solo Overwatch Però diciamo In futuro Non so che Che cosa fare Mori 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 Riconfigurazione Ah M'han congelato Vai Quel paese Ok Cambiamo personaggio Andiamo con Un Hanzo No Esperi Perciò l'ho usato Prendiamo qualcuno di nuovo Ok Uff Ah Ho detto che usavo Trazer Riprogniamo un po' Trazer Niente paura Arrivano i nostri Yeee Arrivano i nostri No Mentre ci sono io Eh Me lo ammazzo a quello Muori 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 Oh Dannazione Dovevo premere Aaaaa Salvo Si la metterò anche su Youtube Questa live Ah Sconfitta Aaaaa No Siamo crepati Cano clone GG Cano clone Oh Ah ok Però a me non ha ammazzato Non è riuscito ad ammazzare me Oppure No ok Mi ha ammazzato Saluto dopo Saluto alla fine Saluto tutti quanti Se restate per la fine Vi saluto tutti quanti Allora Chi elogiamo Elogiamo quello della nostra squadra C'è E' stato un grande 40% dei danni della squadra Ah Allora Ben tornato Calon Colon A volte dico Sostituisco le A e le O Aaaaa Allora Vediamo un po' Vediamo un altro quarto d'ora Vediamo cosa fare Se non Se non Se non grattarmi il naso Per tutto il tempo Allora potrei provare La tizia egiziana Che lancia la giustizia Potrei provare Questa tizia Oppure il Il pistolero Ok proviamo prima la tizia Della giustizia Poi facciamo il pistolero Yey Pronti alla battaglia Allora abbiamo Me Poi c'è Widowmaker Soldato 47 Poi il tizio tedesco Yey Proteggiamo gli innocenti Ah ma io posso pure volare L'avevo dimenticato Allora vediamo un po' Posso volare I propulsori in più Ancora E poi Una scarica esplosiva Un mini razzo Ok Film random Che è successo? Preparate ad attaccare 31 secondi Eee Ce ne vuole Ok rispondiamo A delle domande Intanto Tutti mi stanno chiedendo Se conosco telegram Si conosco telegram E ce l'ho pure Potrei usarlo Per avvisare Delle live E' una cosa Un po' in più Usare anche telegram Perchè comunque Uso youtube Carico il video Su youtube Carico Il vi Cioè lo scrivo Su facebook Lo scrivo su twitter Scriverlo anche su telegram E' un po' Superfluo Dato che lo scrivo Già su tre cose Però comunque Non è un grande problema Perchè in futuro Ci saranno le live Fisse E poi le live Bonus Ci saranno Ogni tanto Così E comunque Le scriverò Sempre su facebook Twitter E youtube Nessun problema Eeeh Quindi scriverlo Anche su telegram E' un po' Un casino Cioè in più Roba in più Che è un po' Inutile Oh bel macchinone Che c'è questo tizio volante Allora dobbiamo Ammazzare Ah Ammazziamo Oh Cacchiarola Mi hanno Mi hanno disintegrato Cioè è stato Fantastico Mi hanno tirato via E mi hanno Disintegrato in dieci Ok Vabbè Ah Allora Le rane sono belle Le rane sono belle Mi chiede Mi chiede Colin Se sono belle o amabili Sono belle Sono del Dei Degli animali carini Bene o male Ah mannaggia Oh boh boh Ma Allora Questo è un lanciarazzi Ok 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 mo crepo Uh Che Sederone Ok Dove sono i cattivoni Uh Torrette A A go go Wow Grande Sono riuscito A eliminare una torretta Ok Con her Sparo un missile Che rispinge le robe Però eh Se non erro Proviamo a sparare Sto un missile Che rispinge le cose Eh ma non funziona Ah Ah Mannaggia la miseria Ma sono troppe Sono troppe Ho eliminato la torretta E poi mi hanno ammazzato Sono tante Sono tante Sono tante Allora Ehm Allora State tutti chiedendo Di telegram Ho risposto Però mi sa che sta arrivando In ritardo la risposta Quindi ho già risposto E' superfluo Fare un gruppo di telegram Oltre a tutti gli altri Mezzi di comunicazione Che ho Quindi Se volete dirmi qualcosa Eccetera C'è sempre facebook E Tutto Tutto quanto Quindi Non vi potete scriverlo Nei commenti Li leggo Non vi preoccupate E quindi Però se volete essere sicuri Mi raccomando Scrivetemelo su Su facebook Sicuro vi leggo Però Ehm Fare telegram Anche E' un po' superfluo Mannaggia Faccio schifo Con sta tizia Non è proprio Il mio personaggio Che mi stanno curando Intanto Mannaggia No non è il mio personaggio Questa tizia No 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 Troviamo il pistolero E gli orai Non muoiono mai Ah io sono morto Però Mannaggia Ehm Allora Tutto tu Andiamo ad ammazzare Vediamo intanto Leggo Ehm Ok Ancora dieci minuti Rispondi Subito alle rane In che senso Cos'è sta cosa adesso Delle rane Wow C'è qualche altro meme Sulle rane Che non conosco Strano Mannaggia Non muoiono Allora Wow 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 Dov'è Ah cacchia Rola Si è trasportata dietro Ehm Ah 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 Allora Si lo so Che telegram Sarebbe ancora Una cosa in più Però E' troppo E' E' troppo Cioè Facebook Youtube Ehm Tutto quanto Aggiungere anche Telegram E' troppo Poi comunque Non lo uso Quasi mai Lo uso Una volta ogni morte Di papa Quindi Alla fine E' meglio usare Uh ho eliminato qualcuno Grande E' meglio usare Facebook Lo uso di più Anche se lì Pure rispondo Una volta ogni Un bel po' Però Almeno lo uso Un po' di più Mannaggia Meno muoiono Ha eliminato Simone Eh sorry Simone Vabbè Sono stato anche stato Lignato Allora Tutti a cercare Il mio nick Di telegram Le rane Conquisteranno Il mondo Che bello Allora Molti si lamentano Della linea Schifosa Si So cosa Cosa State passando L'ho passato Per tanto tempo Avere la linea Schifosa Quindi E anche Adesso È buona Però Potrebbe essere Migliore Però vabbè Si è morto Siamo morti Di nuovo Vabbè Prima Vincevo Sempre Sono andato A mangiare Sono tornato Sto morendo Sempre Il cibo Mi fa male Non devo più Mangiare Mi sa Allora Ok Mi sa che adesso Proviamo Questo tizio Voglio provare Un po' tutti quanti Quindi Prima o poi Lo proverò Comunque Però Anzi Prima Voglio provare Quello grosso Grosso Ok Questo Comunque Perché Della nostra Squadra Vai Akira Tobi Sei il migliore Ok Sì Ok Uh Livello 4 Ho raggiunto Forzieri Ma che Sono Sti Forzieri Boh Yeee È salita Media totale 5 uccisioni A partita Yeee È una buona cosa No Spero Allora Torre di Li Jiang Daniel mi dice Di usare L'eroe Che uso meglio Per vedermi Vincere Eh Lo vediamo Non so Però voglio Comunque provare Anche gli altri Eroi Quello che uso Meglio Tratraser Penso Per ora E Qual è Con chi altro Ho fatto un sacco di kill Traser Che basta Mi sa che con traser Sono È quello che so usare meglio Però Allora Voglio provarli Gli altri Perché comunque Allora Io che Sto il ruolo C'ho Io c'ho Attacco Quindi questa Da difesa Non mi va bene Che facciamo Che usiamo Il pistolero L'abbiamo usato Questo usato 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 Ok Questo è da difesa Non va bene Adesso Ah ok Usiamo Il ciccione Avevo detto Che volevo usare questo C'è un'altra Mia voce di sottofondo What Dove esce la mia voce di sottofondo Ciao a tutti Dov'è la mia voce di sottofondo Cos'è sta cosa Aspettate Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo se adesso La voce di sottofondo Non mi piace Sta cosa qua Ok Ok Eccoci qua Allora Poi c'è Qui mi dice Che non è vero Non c'è nessuna voce Di sottofondo Non mi fate venire Ste paranoie Se urlo Dopo 5-6 secondi Si sente l'eco Altri mi dicono Ok Non Zona contesa Chi c'è Chi c'è Muori Traser La zona è mia Perca miseria Ci aggiungerei Che va molto al personaggio Grande Mi eliminato quello Traser No Dov'è Traser Dov'è Traser Dov'è Ah Cacchia Rola Mi hai eliminato anche Anche io a Topi Sei passato al nemico Non va bene Passato al nemico Chi la tobi Allora Ah ok Alcuni dicono Che sentono Un leggero Eco della voce Forse perché C'ho La live aperta Però l'audio È tolto Oh Mi sono Appena assicurato Che l'audio È stato Messo a zero Quindi Adesso dovrebbe essere Sicuro al zero Forse prima Non era zero Per questo sentivate qualcosa Allora Aspetta con questo Se non erro Mi li posso Ah Mi posso curare È vero Non ho visto Con emicuro E con maiuscolo Li tiro Oh sono vivo Sono vivo Sono vivo Oh cacchiarola Ah Sono caduto Kill cam Da solo Come lo scemo Sono caduto Pensavo fosse una pozza d'acqua Vai a quel paese Vegeta mi dice Se farò una live A cazzeggio Su altri giochi Sì In futuro Sì Il futuro È pieno di possibilità Possiamo fare Tutto quello Che vogliamo Possiamo fare Tutto quello Che vogliamo Mi dico Dani mi suggerisce Dato che adesso Non sente Più la doppia voce Mi consiglia di urlare Così Siamo sicuri Di vedere se Vabbè Finaggia la miseria Siamo sicuri di vedere se Il problema c'è ancora Oppure no Eh abbiamo perso Vabbè La super di questo Cos'era Non ho neanche Sono anche arrivato A leggere Sta cosa qua La Ditemi se lo sentite Comunque forse L'audio prima Non era messo Al 00 Perciò Forse si sentiva Però adesso Ho messo al 00 Allora Club Sì Probabilmente Faremo un raduno Sui pixel Per quanto riguarda Minecraft Però Queste cose Le decidiamo Bene bene Insieme Su qualche video Magari Eccetera Sotto qualche video Così O nella prossima live Per ora Concentriamoci Questi ultimi minuti Che ci restano Questa Purtroppo È l'ultima partita Quindi vediamo Di fare qualcosa di buono In quest'ultima partita E Dobbiamo attaccare Quindi vediamo Di rompere il sedere A tutti In quest'ultima partita E Poi ci rivediamo Con le prossime live In futuro Ok c'è un tizio là Mori mori No dai 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 Ma cos'è Ok ho eliminato il tizio Ok Ricarichiamoci Mori Grande Wow 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 Cos'è sto robottone All'improvviso Ah ma è amico mio Ma vai a quel paese Mi hai fatto spaventare Ok Riprendiamoci l'obiettivo Perfetto Dov'è Ah Mi hanno ammazzato Ah sono il migliore E voi siete migliori Sì ovviamente Non vi preoccupate Dopo l'ultima partita Ci sarà il tempo dei saluti E poi ce ne andiamo Non vi preoccupate Non me ne vado Senza salutare Vi saluto tutti quanti Non vi preoccupate Finiamo la partita Ci sono i saluti E poi torniamo a casa Cioè Sono già a casa Però Vabbè Allora Non vi preoccupate I saluti ci sono sempre Alla fine Salutiamo tutti Mannaggia Ammazziamo l'ealer Morite Grande No Zona contesa Ah Ma dove sono Mamma Non lo so usare Sto tizio Ok dai Usiamo il tracer Così almeno facciamo qualcosa di buono Quest'ultima partita No Ancora non è finita la live L'ultima partita nel senso La Il fatto del conteso Non La morte Non l'ho sentito Urlo audio verificato Perfetto Grazie Daniele Ehm Non vi preoccupate Ehm Come fine partita Intendevo Fine partita di Ah va Quel paese Devo premere Ehm Color mi chiede Se dopo il tempo dei saluti Ci sarà il tempo delle storie Facendo Una citazione Al canale All'altro canale Ehm Non ancora Il tempo delle storie Però non ti preoccupare Sta arrivando Ah Che bello Allora andiamo ad uccidere Tutti quanti Ah che cagliarola Ma L'avevo premuto Eh però Dannazione Ci stanno distruggendo Ci stanno distruggendo Allora Muori 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 Ok Flashback Ah va Quel paese Flashback Non mi è servito Oggi Sono un ninja Eh Bello male Ehm Gunter The God Mi chiede se farò Gunter The God Mi chiede se farò Una partita League of Legends Probabilmente Non adesso E non Tra neanche una settimana Un roba simile Perché Non Amo molto Il genere Dei mobba E quindi Di conseguenza No Flashback Non amo molto Anche Il super amato League of Legends Quindi Yeah Quindi per ora Non lo farò Però in futuro Proverò ad avvicinarmi Di nuovo al mondo Dei mobba E vedremo Se mi piacciono Poi si Proveremo anche LOL Ok Allora andiamo LOL League of Legends LOL È la stessa cosa Ah Voi siete i grandi Non io Ancora Wow Ma questi C'hanno l'healer Sono Uh Bomba a tempo Ah Via con le bombe Ah ma io posso Tenere premuto Con Tracer Ma vai a quel Non 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 Quando Odio Quando Odio Scoprire le cose Poi Conquista in corso Dai Grande Conquistata Almeno L'ho conquistata Ci facciamo qualche percentuale In più Eh ma Ormai 99% Mi sa che abbiamo perso Ah no Ok È ancora nostra È ancora nostra Tenetela Tenetela Che sto arrivando Tenetela Che sto arrivando No 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 Ah Abbiamo perso Ah Vabbè Ah Questo significa Che è finita Anche la live Quindi Ah Vi ringrazio a tutti Per la live Finiscono Sti titoli Di coda Iniziamo con i saluti Ah Quindi Cos'è la migliorazione Ah Si è trasformato In un carrammato Che figata Ok Quindi Votiamo il migliore Ancora Akira Toby va Facciamolo sentire Bene Quindi Vi ringrazio tantissimo Per tutto Tutto Il sossegno Che mi date sempre Per aver seguito Questa live E quindi Grazie ancora A tutti Per aver seguito Questa live Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Tramite un like Un commento Ma non per quella cosa Un milione di like Sono il più figo di tutti Oh yeah Ma semplicemente Perché così capisco Se una cosa vi piace Oppure meno E Grazie per aver visto questo video Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao